E' passato circa un mese da quando ci siamo sentiti per la prima volta e cosa è cambiato? Purtroppo poco, poco se non quasi nulla. Purtroppo dobbiamo andare avanti così. Abbiamo visto che in questo mese molti di voi hanno comunque addiritto alla nostra iniziativa, molti di voi hanno guardato i filmati, abbiamo raggiunto 2928 visualizzazioni con 94 iscritti al nostro canale YouTube. Questo non può fare altro che farci piacere. In questo momento dove comunque non si può fare diversamente ancora, purtroppo, e speriamo la cosa cambi presto o più presto, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo nei vostri confronti e di venire ancora più vicino. Più vicino facendo che cosa? Facendo delle dirette, nelle live, quindi delle nostre attività. Da questa settimana inizierò a fare queste dirette. Sono sette attività sportive che possiamo fare, sette corsi, quindi da lunedì al venerdì, ma poi vi spiegherò come fare il tuo mandare per poterli mettere in diretta. E perché lo facciamo? Lo facciamo perché ci piace l'idea di starvi ancora più vicino, ci piace l'idea di stringere ancora un po' di più i rapporti. La live, la diretta, è più bella perché si esprime più energia, perché ci si può salutare, ci si può vedere, si può scambiare anche due chiacchiere prima e dopo della diretta. Quindi perché no? Ci vogliamo trovare, è un'ulteriore sfida che vogliamo fare assieme ai nostri istruttori. Adesso vi facciamo vedere un po' come fare per entrare nel nostro sito, per scaricare i programmi di semola, per chi vale ancora, e per nuoversi all'interno del sito. Guardo su Google, digito www.csi-b-zuschio.it, entro nel nostro sito. Nel nostro sito possiamo trovare, innanzitutto, possiamo vedere sotto le lezioni che abbiamo, le lezioni che faremo in diretta in questi giorni. Quindi questo è l'elenco delle lezioni, scelgo la lezione che più mi piace, che più mi si addice, posso trovarle anche tutte, non c'è nessun problema, sono tutte aperte. Come posso però entrare a far parte della lezione, mettere la lezione diretta? In due modi. Uno, all'orario prestabilito della mia lezione, per esempio il lunedì sera alle 18.30, abbiamo visto che c'era il corso di Zumba, clicco su questa immagine ed entro direttamente tramite Zoom nella diretta del corso. Oppure, altra possibilità, mi scrivo al gruppo di WhatsApp che abbiamo fatto appositamente, se voi vi scrivete a questo gruppo cliccando sopra questa immagine, dieci minuti prima della lezione, i nostri istruttori vi manderanno un link, sul quale voi cliccate e vi porta direttamente nella diretta. Per fare questo però è chiaro che ci vuole l'applicazione di Zoom, questa qui sotto. Senza questo programma non è possibile partecipare alla diretta. Come fare quindi per scaricare questo programma? Vado sopra questa immagine, clicco sull'immagine e mi si apre un tutorial per poter scaricare il programma sia per Mac che per iOS che per PC. Quindi qua è tutto spiegato nei dettagli come fare, come organizzarsi, è piuttosto semplice, non niente di complicato, basta seguire le istruzioni. Un'altra cosa importante, dal nostro sito sempre, se volete, le varie lezioni che noi faremo in diretta, poi le registriamo e le mettiamo nella nostra pagina YouTube. Quindi se scendete sotto il sito, trovate questa immagine, cliccandoci sopra, entrate nella nostra pagina YouTube, dove ci sono già stati caricati i 19 corsi che vi dicevo prima, e da questa pagina potete poi riaccedere nuovamente a vedere tutto il corso in diretta. Quindi, se qualcuno lo vuole rifare durante la settimana, se qualcuno l'ha perso perché non poteva farlo, perché era fuori casa, qua può ritrovarsi il corso in maniera integrale e lo può praticamente rifare tutto. Adesso che avete visto come potete fare, avete visto che non è molto più difficile, basta seguire le indicazioni. Non ci resta altro che farvi un grosso saluto, darvi un grosso abbraccio, lo do io da parte di tutti i nostri istruttori, anche quelli che poi ci saranno nei video. e non ci resta che direvi facciamoci del bene, facciamoci veramente del bene, facciamo attività, perché ne abbiamo proprio bisogno, non la devonalizziamoci, siamo sempre pieni di energia e che l'energia costrime è quella che farà andare meglio le cose. Un grosso abbraccio a tutti e a presto, ciao!